Noi l'avevamo detto, durante quella discussione avevamo manifestato le perplessità nel merito e nelle procedure utilizzate da questa maggioranza e in sei mesi hanno portato a casa una sola norma e se la sono fatta impugnare. È un colpo al turismo, alle attività produttive, all'immagine della nostra regione e sarebbe davvero bello poter chiedere al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Salvini che verrà a fare un comizio sui trabocchi perché ha impugnato una legge sui trabocchi. Renderò pubblico il verbale di questa Commissione di Vigilanza perché i timori, le perplessità si sono ulteriormente alimentate e a mio avviso la procedura utilizzata per la rinomina del Consiglio di Amministrazione di Tua è illegittima e durante la Commissione di Vigilanza queste carte e anche l'intervento del Sottosegretario hanno ulteriormente rafforzato questa mia opinione. La procedura utilizzata è molto fragile e ho suggerito al Governo regionale di correre immediatamente ai ripari.